Oltre 30 ore in balia del mare prima di approdare ieri sera ad Augusta, ma questa volta lo scenario che si presenta è quello della guerra libica. Circa 500 fra uomini, donne e bambini, 331 dei quali imbarcati sulla nave umanitaria Responder del MOAS, mentre i restanti sulla Eliseo della Marina Militare Italiana. Circa 10 di loro portano sulla pelle i segni della loro storia, una storia che racconta il perché di questi viaggi in balia delle onde che li porta a fuggire lontano da casa. A salvarli, oltre all'intervento della nave, un compagno di viaggio e studente di medicina da Smara, che secondo quanto emerso dai racconti li avrebbe curati e medicati durante le due settimane trascorse dentro la casa dei trafficanti in attesa di partire. Lo stesso poi, una volta sbarcati, si sarebbe accertato delle condizioni di salute dei compagni di viaggio. Fra chi fugge, afferma Gianfilippo Pascolini, coordinatore dell'equip di emergency, ci sono persone molto qualificate che in situazioni come questa possono fare la differenza.